Welcome to MiraTV! Ragazzi, boys and girls, sono qui per parlare dell'ultima puntata di SmackDown. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, partiamo subito e iniziamo con il Gauntlet Match che ci ha dato i nuovi number one contenders ai titoli di Sami Zayn e Kevin Owens. Coloro che affronteranno quindi questo duo lì a Money The Bank è uscito fuori da questo Gauntlet Match che sinceramente parlando non credo sia uno dei migliori degli ultimi 3-4 anni della WWE. Un Gauntlet Match, sì, ovviamente fatto con dei tag team che però sembravano essere un po' tutti quanti un po' scemotti. Per non parlare proprio del fatto della gestione, ecco, se si vuole entrare proprio all'interno di come è stato studiato il tutto uno si potrebbe fare diverse domande su come si sono state gestite un po' le cose. I Street Profits sono durati pochissimo e sono uno dei migliori tag team della WWE che piaccia o meno e questa è un po' la realtà. I Good Brothers pure, mi viene da dire, no, sì, mattatore assoluto scimus che proprio lui, no, va praticamente a eliminare sia i Street Profits sia i Good Brothers a suon di bicycle kick. Il primo lo va a seguire su Angelo Dawkins, il secondo lo va a seguire, se non sbaglio, su Karl Anderson e quindi, sì, ti prendi, no, il battatore che è scimus, il grande lottatore che è scimus però ti devi fare, secondo me, anche un po' di domande perché è stato tutto quanto così sbrigativo. Penso che siano durati davvero manco una manciata dei minuti i Street Profits e i Good Brothers complessivamente parlando. Poi, un conto è se tu mi metti, giustamente, no, gli intro che, guardate caso, vengono scosciati malamente perché non c'hanno una tattica, perché sono tutto meno che un team intelligente figurali se sono a stipoli intriganti. Quindi, il fatto che abbiano subito fatto la figuraccia, loro ce sta che si siano durati pochi secondi. Però, mi aspettavo una prestazione completamente diversa da parte di Street Profits completamente diversa anche da parte di Street Good Brothers che confermano quello che io sto dicendo da quando sono tornati. Sono tornati soltanto per questi. Non gliene frega niente alla WWE di dare a loro un tag team serio perché sono tutto meno che serio, tutto meno che di livello. Fanno abbastanza ridere anche loro se voi pensate un po' al fatto che senza Styles accanto sono un team jobber da paura. Cioè, parliamo se chiaro, so questo, so questo. Eppure, Karl Anderson fino all'anno scorso, insomma, prima di tornare in WWE faceva qualcosa di intrigante in Giappone. Ma va bene così. Trasciando questo, anche le WWE non è che abbia fatto tantissimo seppure io penso che Cruz del Toro con su tag team partner devono un po' essere gestiti così ancora perché non è il loro momento. Non è il momento di vederli brillare nella tag team division fate fare prima tutto a Santos Escobar. Poi vediamo un po' se riesce a fare qualcosina anche Zelina che dall'altro, secondo me, sta facendo un buon percorso. Loro devono aspettare. Loro devono aspettare. C'è sta che non abbiano brillato. Io mi prendo giusto quanto è successo all'LWO all'interno di questo counter-match. Gli altri mi hanno lasciato tutti quanti basiti. Non sicuramente Yitro, ecco. Non sicuramente Yitro, ma non voglio manca aggiungere la figuraccia che hanno fatta. È una cosa normalissima. Detto ciò, poi ci troviamo quindi con un finale molto particolare perché She, Monster e Joland restano con i Pretty Deadly che incassano per gran parte del loro match però fanno vedere di essere fortunatamente intelligenti perché vanno a vincere il match con una tattica da pure ille intelligente. A me questa cosa è piaciuta davvero tanto e tra l'altro non me lo aspettavo neanche. Vi dico la verità. Quando ho visto il componente di Pretty Deadly andare a ottenere il 3 per poi la vittoria di questo counter-match io sono rimasto sciocco basito perché mi sono detto ma davvero hanno preferito mandare i Pretty Deadly rispetto a She, Monster e Joland lì a Monite Bank lì a Londra sì, è successo veramente quindi un po' il fattore shock c'è stato tra l'altro però anche i Pretty Deadly hanno un rapporto particolare e secondo me sono quelli che stanno gestendo molto bene da quando sono stati promossi l'ho detto praticamente da giorno 1 che l'ho visto in Coa SmackDown e loro stanno facendo un percorso giusto quindi ci sta pure che abbiano incassato tremendamente la furia che hanno mostrato all'interno del suo counter-match She, Monster e Joland poi però hanno trovato il modo di vincere il match si sono fatti vedere il momento opportuno e hanno vinto la contesa curioso il fatto che poi dopo la loro vittoria siamo andati in pubblicità e di ritorno da questa loro erano ancora al centro del ring a festeggiare questa vittoria erano lì a festeggiare questa vittoria quindi sono stati sul quadrato circa 4-5 minuti a fare i coglionazzi ed è punto in bianco lì a quel punto è giusto che sia risuonata la team di Kevin Owens e Sami Zayn che sono arrivati sulla rampa gli hanno fatto notare proprio questo che vi ho appena detto e per i telli mi sono piaciuto tantissimo perché hanno sfruttato il momento per dire una frase molto importante quando noi vinceremo i vostri titoli di coppia mi carico e Sami Zayn noi festeggeremo Eve Longa ancora di più ancora per più tempo con una faccia sfacciata con il loro essere anche un pochino scemo ma so gagliardi a me i team così piacciono così sfacciati così anche un po' non stupidi però sfacciati quelli che sanno riconoscere di essere bastardini mi piacciono mi piacciono bellissima anche la reazione di Kevin Owens e Sami Zayn però che con delle espressioni molto perplesse mentre quello diceva Eve Longa Eve Longa si guardavano e poi alla fine hanno deciso di comune accordo che io e Sami di dirigersi verso il ring per cercare di andare a colpire i loro futuri sfidanti che però giustamente so scappare bello mi è piaciuto questo momento qua differenza del Gunter che secondo me potrebbe essere gestito molto meglio soprattutto nella parte iniziale con Street Profits e Club Brothers che sembrano tutto meno fuori dei team decenti soprattutto i Street Profits mi viene da dire su questa frase però va bene così alla fine si dovranno vincere per i Deadly quello è l'importante hanno gestito bene il tutto sul fattore di aver fatto vincere per i Deadly in questo modo secondo me ovviamente andiamo avanti e parliamo di Zelina Vega che ha fronteggiato YoSky match brevissimo brevissimo non capisco perché tante contese di questa puntata mi riferisco anche a quelle che abbiamo visto all'interno del Gunter Match abbiano ottenuto così poco tempo capisco il mini event però c'era anche un'ora penso un'ora e quindici un'ora e dieci di puntata da dare a sta gente e davvero abbiamo visto 3-4 contese di un minutaggio molto breve e la cosa più positiva o meglio la cosa più degna di nota del match tra Zelina Vega e YoSky è quando YoSky va a rimproverare Bailey per aver distratto l'arbero durante il suo pinfall tanto è passato lì Valentino Rossi durante il suo pinfall lì Zelina Vega vedendo un po' YoSky che stava a parlare con Bailey ha cominciato in avanti approfitta del tutto per connettere la 619 alla nipponica per poi catapultarsi sul suo corpo schienarla ottenere il 3 e vincere sto match cioè Zelina Vega ha sconfitto YoSky sì ok che YoSky si era fatta distrarre nel rimproverare Bailey per quello che era accaduto però è una Zina Vega che ottiene delle vittorie un pochino particolari prima sulle See Evans questa su YoSky secondo me è più importante no? giusto per questo vi dico la gestione di Zina Vega a me sta intrigando sotto certi punti di vista poi so che magari vederla Miss Money the Bank è un po' complicato per diversi motivi però è giusto che lei vinca questi match possiamo qua star parlare della sconfitta di YoSky secondo me no perché la narrativa attualmente parla chiaro c'è un gran problema tra lei e Bailey e la stanno gestendo davvero molto bene perché ti fa venire dei dubbi in vista di Money the Bank quando tornano nel backstage YoSky accetta per Bailey una contesa contro Shozzi e questa contesa è molto pesante ragazzi perché se Bailey perderà settimana prossima contro Shozzi non andrà all'interno del Money the Bank ladder bensì c'è la stessa Shozzi quindi diciamo che la sconfitta di YoSky contro Zina Vega non va secondo me manco calcolata nel suo confronto nel suo nel suo personaggio perché in questo momento si sta andando verso un percorso con lei in singolo e sono molto intrigato molto intrigato perché poi YoSky contro Bailey sulla carta come lo metti lo metti è molto intrigante da capire però quando ci sarà il padatrack totale che potrebbe essere proprio a Money the Bank come stiamo dicendo da un paio di settimane vediamo se sarà davvero così sarà sempre curiosa la situazione da Kotakai perché se ci fosse che è stata da Kotakai chissà come avrebbero gestito questa situazione però rimarrà sempre lì detto ciò parliamo ora del Grayson Waller Effect che ha avuto come ospite Charlotte Flair io qui mi sono segnato tutto quanto ovviamente però non posso sta qua non farvi notare quanto io fossi sorpreso nel vedere l'australiano Grayson Waller così stupito così stupito barra eccitato nel stare vicino a Charlotte Flair era una situazione molto strana quando c'erano soltanto loro sul ring non so se siete d'accordo ma le loro battutine i loro sguardi le reazioni di Charlotte le parole di Grayson Waller mi sembrava di stare a vedere un altro show in quel momento dove Grayson Waller è fottutamente bravo nel recitare sta parte di quello che è davvero emozionato nel stare lì vicino a Charlotte poi ottimamente lui sta vicino a tutte le donne se ci pensate però si vedeva proprio che sta interpellando questo personaggio straonorato che però ti deve fare anche la frecciolina a una grande tipo giornalista che non è che questo Waller non è però ce la faceva comunque il segmento prende tutt'altro tipo di valore quando arriva Bianca Belair e non poteva essere altrimenti l'altro l'aveva promesso ad Ampils prima del suo segmento che avrebbe fatto tutto di testa sua visto ciò che è accaduto e il confronto tra Charlotte Flair e Bianca Belair era inevitabile con Bianca che si è lamentata che la Queen si è presa il suo spot che si è presa quindi sto match contro Asuka a discapito suo che aspetta ancora sto rematch Charlotte le risponde guarda che manco io ho tenuto un rematch contro Rhea Ripley quando ho perso la Fressilbenia ma se va avanti e poi Charlotte dice una frase che secondo me visto che la dice poi tra l'altro Bianca Belair va presa analizzata per un'ora ovvero dice tale frase dice questa frase qui io con o senza titolo resto campionessa te Bianca Belair è la stessa cosa non mi pare qua questa questione questa frase tra Charlotte e Bianca si può avvicinare tutte e due cioè questa frase si può mettere accanto i loro personaggi e si possono dire tante cose non mi basterebbe forse un'ora dei video quindi al massimo affronteremo tutto in live un giorno però ci sarebbe tanto ci sarebbe tanto da dire su sto fattore titolo non titolo Charlotte titolo non titolo Bianca Belair soprattutto negli ultimi tre anni vabbè dove andiamo avanti e vado a citarvi la reazione di Bianca Belair che si è sentita tanto mancare di rispetto perché Bianca come ha detto lei è stata la campionessa più longeva dell'era moderna della WWE e non si sentiva di essere rispettata di essere non rispettata in quel modo da parte di Charlotte e le ha fatto praticamente capire che deve stare attenta perché ora succederanno succederanno evidentemente delle cose perché Bianca Belair vuole assolutamente rimettere le mani sul suo titolo vuole avere un rematch e tutto lascia pensare che stiamo per avvicinarci a un eventuale triple threat match da capire quando si farà settimana prossima avremo Charlotte Flair contro Asuka o comunque se non sbaglio sì settimana prossima mi pare e vediamo un po' che succederà io non ho dubbi sul fatto che vedremo un triple threat prima o poi tra queste tre lottatrici Asuka Asuka ragazzi è ritornata a fare quello che faceva qualche tempo fa purtroppo che sia triplage che sia Vince McMahon non vedono lei secondo me qualcosa più intrigante di Charlotte di Bianca poi qualcuno deve dire è ovvio non ha un personaggio non prova oppure fa sempre le stesse cose sì vi dico sono d'accordo ma lo vogliono loro sono loro che scrivono gli show vedremo io sarei molto sorpreso di vedere Asuka alla fine della storia occhio alla fine della storia uscire rionfante tra queste tre donne e poi affrontare qualcun'altra davvero sarei molto sorpreso se alla fine di tutto Asuka si mette alle spalle a S2 con il titolo sulla spalla sarei molto 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 sorpreso mi auguro di un colpo di scena clamoroso ma io quando ho visto il roster del Smackdown ho detto una frase importantissima e se sta realizzato tutto è così ragazzi è così andiamo avanti e parliamo della bloodline prima del main event perché come al solito hanno avuto diversi segmenti nel backstage e anche nel camerino di Roma Reigns uno dei segmenti più importanti è stato quello dove Paul Heyman è andato da Geuso per cercare di persuaderlo a unirsi alla bloodline cercare di mettere in testa delle cose ma Jay gli ha fatto capire di non essere per niente interessato a stare lì ad ascoltarlo anzi ha provocato nuovamente Heyman con quella frase che se lui sarebbe stato parte della bloodline Heyman sarebbe stato fuori perché abbiamo capito che Jay non sopportava più assolutamente il personaggio il ruolo di Paul Heyman all'interno della sua famiglia e tutto ciò è stato comunicato da Heyman a Roman Reigns e solo si coa lì nel camerino del tribal chief solo una volta aveva ascoltato tutto stava a partire malamente pronto a andare lui da Geuso ma Roman l'ha fermato quindi Roman l'ha detto aspetta solo aspetta pensiamoci nel benevento quando tu starei vicino a me e lui verrà di fronte a noi lascialo stare quindi anche questo solo si coa che voleva andare a Geuso con quell'aria un po' poi tutta barba era molto curioso quindi ci stava secondo me citarvi questi segmenti nel backstage della Bloodline detto ciò prossimo match AJ Styles in coppia con Mishin Mia Yim fronteggiato Carrion Cross e Scarlett qua è stato un match meglio un mix ed active match molto frettoloso con Jay e Mishin Mia Yim che si divertivano a collaborare in coppia contro Carrion Cross che ha preso 3-4 offensive brutali desti due che davvero collaborano uomo e donna contro Carrion Cross pronti a incassare qualunque tipo di offensiva e solamente i loro avversari e io lì stavo ridendo perché Mishin si vedeva proprio che godevano il colpire Carrion Cross e va bene così curioso il fatto che nonostante la discreta prestazione da parte di Mishin Mia Yim si è fatta sempre trovare pronto per menare Carrion Cross e anche Scarlett quando c'è stato bisogno ecco proprio quest'ultima Scarlett risulta essere più decisiva dell'altra donna perché è lei a distrarre Agee Styles dopo che quest'ultima aveva fatto una come cazzo una Styles Clash su Carrion Cross quindi abbiamo visto Agee Styles fare la Styles Clash su Carrion Cross Scarlett da quel punto di cattiveria si è messo di fronte a Agee Styles l'ha iniziato a persuadere a provocare Styles le ha risposto malissimo dicendo guarda che io sono sposato bitch così proprio parole di Agee Styles lì Scarlett sentendosi offesa va a tirare uno schiaffone a Agee Styles per poi essere trascinata fuori da ring ovviamente da Yama Yim se non sbaglio intanto però sicuramente questo ricordo con Kale Cross che è rinvenuto dalla Styles Clash va a ferrare Agee Styles e gli fa di tutto di più Cross Jacket Cross Hammer e poi tira fuori una variante dei Face Buster che penso sia la sua nuova finisher perché è stata decisiva ha schienato Agee Styles dopo sta variante dei Face Buster che mi ha lasciato molto stupito sul momento perché di solito chiude i match in altri modi Kaleon Cross vince grazie a Scarlett chissà perché Kaleon Cross per essere rilevante deve usare Scarlett vedremo come va a finire sta storia io davvero non trovo ancora per niente intrigante Kaleon Cross ma non voglio ripetere certi concetti oramai diventati anche noiosi da dire di certo non è una vittoria del genere a fammi di eh ora stanno ripuntando su su Kaleon Cross manco per niente perché vi dirò di più guardando il roster di SmackDown con le assenze di Bobby Lashley e l'assenza sempre particolare di Edge Styles mi pare uno dei pochi babyface di punta quindi dubito che possa davvero soccombere alla fine della storia su Kaleon Cross che per me è soltanto un midcard a volte anche Joe parliamo se è chiaro quanto può durare questa vittoria dei Kaleon Cross per questo non voglio neanche pensare all'idea no no assolutamente andiamo avanti e parliamo di chi a proposito di un altro miccard il Baron Corbin che è andato a colpire Cameron Grimes nel backstage durante l'intervista un Baron Corbin che si conferma colui che è ovunque in questa in questa situazione in questo momento della compagnia perché NXT lotta per il titolo mondiale qui a SmackDown a fare le comparsi per andare a prendersela ora anche con Cameron Grimes visto quello che è accaduto anche settimana scorsa un Corbin che penso sia uno degli ultimi personaggi che il fan medio della WWE vuole vedere così tanto invece ce lo portano di fronte agli occhi cioè hanno messo Baron Corbin in free agent pensando sicuramente ora il pubblico no accetterà io devo ancora trovare i fan dei Corbin quelli veri quelli che mi dicono che bello vedere Baron Corbin sia a SmackDown che a NXT devo vederli sinceramente parlando devo vedere st'idea di metterlo in free agent e poi venire gestito così non lo so sinceramente se esistano sti fan dei Baron Corbin contenti di vederlo ovunque negli ultimi settimane tra l'altro con un personaggio molto me quando ritornerà il vecchio Low Wolf ve prego ve prego inventatevi qualcosa ma non la rirescita dei capelli non mi riferisco a questo mi riferisco proprio a un cambio attitude di sto di sto uomo che deve tornare sui sei passi deve tornare assolutamente sui passi perché sto personaggio qua è qualcosa che non può stare in due show mi fermo qua non può stare in due show figurate se può essere number one contender a un titolo mondiale ma va bene così andiamo avanti parliamo di Rey Mysterio che è salito sul ring per dirci una frase importante ovvero che si dice molto molto fiero di aver ridato lustro all'LWO di aver riportato questa stable all'interno della WWE proclamando questo tale progetto come una delle sue miglior opere nella sua carriera l'altro sono d'accordissimo con lui aggiungo pure poi che Rey Mysterio ci ha detto che ha detto che secondo lui sarà Santos Escobar a vincere il Monterbank a Londra e per questo lo ha presentato su ring con una grande presentazione tra l'altro lo ha definito l'imperatore l'imperatore vediamo poi si acterà un giorno davvero da grande imperatore Santos Escobar all'interno del Mer Roster di certo possiamo dire che Santos Escobar quando è arrivato a Rey Mysterio si è subito ha subito fatto capire quanto ci tiene al folletto di San Diego quanto si sente quasi onorato perché visto anche quello che dice Santos Escobar è stato Rey a sceglierlo per tale importante stable e lui a questo punto vuole combattere per Rey per renderlo fiero di questa scelta quindi Santos Escobar va proprio a dire che a Money in the Bank lui combatterà per Mr. 609 lui farà di tutto per rendere fiero Rey Mysterio che lo vede già con la valigetta lì a primo luglio vedremo se sarà davvero così il discorso di Santos Escobar è stato interrotto da L.A. Knight yeah allora qui diventa un po' più serio invece perché è stata una situazione molto complicata da guardare se sia un po' fan smart come me perché la narrativa mi sembrava un po' folle vedevo L.A. Knight fare il cattivo mattifato dal pubblico sia quando lui attacca Rey Mysterio che quando poi Santos Escobar restituisce i colpi che poi lui scappa da ring e il pubblico è sempre dalla parte L.A. Knight con L.A. Knight che tanto da Hill viene più supportato dal pubblico a discapito del L.W.O. a discapito del Rey Mysterio e Santos Escobar è già lì in quel segmento poi la grafica ci conferma il loro match tra Santos Escobar e L.A. Knight e mi so raga mi so ritrovato in questo ragionamento anche lì cioè ogni offensiva di Santos Escobar contro L.A. Knight veniva fischiata ogni roba che faceva invece lui veniva acclamato tifato sostenuto tanti cori e io stavo lì a dire ma se Stanna rende conto di che hanno fatto capisco che bisognava fare sto single match perché o fai L.A. Knight contro Santos Escobar o fai L.A. Knight contro Butch alla fine della storia però io mi sono messo un po' le mani nei capelli perché vedere un Hill così tanto tifato e un face contro Santos Escobar che fa parte di L.A. fischiato mi ha fatto dire non mi è sembrata una grandissima idea proprio a sto match questa settimana poi lo devono fa poi lo devono fa perché come ho detto poc'anzi ragà a Money in the Bank ci stanno tre rappresentanti di SmackDown L.A. Knight Santos Escobar e Butch e questi due ultimi sono face pure loro quindi ovunque la mettevi sta contesa L.A. Knight avrebbe affrontato un face però boh non non mi è piaciuto mi è piaciuto proprio l'idea poi veder Santos Escobar vincere con l'app è qualcosa che mi ha lasciato molto per presso perché Santos Escobar quando ha fatto roll up finale e ottenuto il 3 si è beccato diversi fischi diversi fischi perché un face che vince contro il tifato di roll up è una delle cose forse più folli secondo me da proporre e addirittura nel post match quando L.A. Knight si è ribellato ha fatto vedere che ha rosicato e ha colpito Santos Escobar è venuto acclamato dal WWE Universe e io stavo lì a dire se saranno resi conto dei che hanno messo in scena se saranno resi conto perché davvero l'unico pensiero che mi è venuto in testa L.A. Knight per me non può più essere il soprattutto se è proposto così no assolutamente no mi auguro che lo capiscono in tempo mi auguro che lo capiscono in tempo chissà se forse lo capiranno da Money in the Bank da Money in the Bank vediamo un po' se sarà davvero così detto ciò siamo arrivati al main event la scelta di Jay Uso e qua voglio armarmi nel mio telefono per descrivervi tutte quante le emozioni che ho provato complessivamente parlando nel poi andare a riassumere questo questo segmento perché siamo forse vicini alla fine di questo grandioso film che anche in questa puntata ha avuto un altro grandissimo segmento allora partiamo da dal discorso che secondo me siamo oramai vicini a quanto no vi dissi qualche settimana fa ovvero che a Money in the Bank avremmo avuto Jimmy e Jay Uso contro solo e Roman Reigns questa era una cosa che io ho fatto ovviamente all in su questa su questa storia appena avevo saputo che Roman Reigns era stato confermato per Money in the Bank vi ho riportato che secondo me avremmo visto questo Ducky Match tra tra questi tra questi due team veri e propri che si sono venuti a creare grazie alla Bloodline ora è tutto quanto mi viene da dire pronto a essere consegnato perché alla fine Jay Uso ha scelto suo fratello Jimmy andando a colpire tradimento Roman Reigns con un superkick con un superkick ha sdraiato il triple chief con un superkick e ragazzi giusto così giusto così io qua adesso mi do prende davvero il telefono perché me l'ho fatto no me l'ho lasciato andare a questa voglia di descrivere il tutto in questo modo è stato dopo il superkick è stato un finale davvero eccezionale degno da questo vero e proprio film che ci hanno raccontato non nell'ultimo mese non negli ultimi sei mesi ma da anni ma da anni da quando Roman Reigns è tornato a SummerSlam da quando poi hanno deciso di portare Jey Uso al livello di main event Jey Uso da quel main event Jey Uso che poi si è avvicinato più che mai a Roman Reigns insieme anche al fratello per non parlare poi la storia con Sammy Zayn l'arrivo di solo Sikoa quello che è successo poi con Zayn lì a Vestelmania con Kevin Owens eccetera 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 non è iniziata un mese fa sei mesi fa inizia davvero tantissimo tempo fa in questo film straordinario che sta probabilmente per raggiungere la fine e so curioso di vedere se davvero la fine sarà un tag team match tra gli Uso e Roman Reigns è solo Sikoa perché è un finale che forse fino a qualche mese fa non avrei mai pensato di pensare ecco invece forse forse si va verso quella direzione fortunatamente poi ho aggiunto questo racconto fortunatamente viviamo nell'epoca di internet dove è stato possibile vedere le reazioni a caldo post puntata di Paul Heyman e Jimmy Uso purtroppo Smackdown forse era troppo in là col tempo quindi è terminato soltanto quando Roma Reigns è stato messo a terra ma fortunatamente ripeto viviamo sui social possiamo sfruttare il wrestling web per trovare cose straordinarie come queste che ci hanno mostrato un po' lei mani in lacrime dopo quanto accaduto un Jimmy Uso che aveva gli occhi lucidi mentre era lì vicino a G sulla rampa bellissimo bellissimo io mi so detto perché non hanno mostrato ste immagini in televisione perché pure questo deve essere incluso in tutto quanto questo film che hanno mandato in onda lì a Smackdown su Fox evidentemente hanno sforato col tempo ma grazie al cielo ripeto esiste il wrestling web esiste il wrestling web e abbiamo voluto recuperare ste immagini ma anche quelle dove Roma Reigns una volta essere tornato in piedi si becchia ai cori you deserve it tu te lo meriti e questo è stato molto importante questo pure doveva essere mandato in onda perché il pubblico che un l'altro aveva il chef you deserve it ti sei meritato questa roba è straordinario ci sarebbero forse sicuramente altri termini per descrivere il tutto ma per me è stato straordinario fatemi sapere la vostra ora qui sotto nei commenti come al solito spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale questo è ancora fatto ragazzuoli da miro è tutto to sweet grazie a tutti